Amici KMoto ciao a tutti oggi voglio presentarvi della linea waterproof DK VA405F è un sacco o borsa a rullo da 40 litri realizzato in tarpa all in con cuciture che impiegano la tecnologia seamless che in realtà non sono cuciture ma è un elettro saldatura ad alta frequenza che ne garantisce l'assoluta impermeabilità questa borsa viene fornita con due pratici ganci elastici che ne consentono il fissaggio che diventa così universale abbiamo una pratica maniglia che ne agevola al trasporto quando la smontate dalla moto il sistema di chiusura è il classico delle borse waterproof roll top quindi arrotolate e agganciate e ci teniamo a precisare che tutti i nostri prodotti rispettano la normativa rich che è quella normativa molto rigida che riguarda la tutela ambientale quindi scarichi prodotti impiego di prodotti particolari e quant'altro per tutti i nostri prodotti vi invito a visitare il nostro sito www.k.moto.com alla prossima ciao